A Roccaraso nel corso di un convegno è stato presentato il magazine del quotidiano in centro Sciabruzzo 2022-2023 che i lettori troveranno in edicola sabato 24 dicembre. La rivista porta la scoperta delle località invernali abruzzese, della montagna, dell'economia bianca, dei problemi soprattutto delle grandi potenzialità turistiche dell'Abruzzo e se ne è parlato durante il convegno organizzato dal quotidiano al centro congressi di Roccaraso e moderato dal giornalista Domenico Ragneri, presenti tra gli altri l'assessore regionale alle attività produttive, turismo, cultura e spettacolo Daniele Damario, il presidente del collegio regionale dei maestri di sci e sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, gestori e operatori dei principali comprensori sciistici dove ogni anno arrivano appassionati di sport invernali. E nella trasmissione Neve d'Abruzzo, andate in onda ieri, il collega Enrico Giancarli ha parlato della rivista. Neve Abruzzo dedicato proprio al turismo invernale. Io volevo, intanto lo possiamo far vedere subito, perfetto, questo lo troverete in edicola il 24 di dicembre con il quotidiano Il Centro. Sci Abruzzo, assessore Damario, chiedo subito quanto ci crede l'assessore. Ma è un'iniziativa, non è il primo anno che si svolge, sicuramente è un'iniziativa importante perché può rappresentare, rappresenta una guida per gli abruzzesi, perché visto che viene distribuito in Abruzzo sulle varie piste, sui veri comprensori abruzzesi esistenti. È uscito qualche giorno fa anche sui media nazionali uno spot che riguarda la neve in Abruzzo. Ha detto una cosa che mi ha colpito molto in conferenza. Sogno in un futuro non tanto lontano di poter sciare con uno ski pass unico in Regione. Sicuramente il mondo va verso una transizione digitale, sicuramente questo ci può aiutare a far sì che tutti gli operatori, ovviamente magari con la guida di Regione Abruzzo, possa arrivare un domani a un biglietto che ci permetta di raggiungere le piste da sci e con quel biglietto poter sciare in qualsiasi parte d'Abruzzo. Vado da Domenico Ranieri, Quotidiano il Centro. Domenico, questa nostra collaborazione, ti ringrazio per averlo anche detta durante lo speciale, c'è questo magazine. Che cosa volete promuovere? Noi vogliamo promuovere l'immagine dell'Abruzzo perché riteniamo che l'Abruzzo della montagna, l'Abruzzo della neve, l'Abruzzo del turismo, delle zone interne sia una risorsa inesauribile della nostra Regione. Per questo motivo ormai da qualche anno abbiamo pensato di confezionare un prodotto che offriamo gratuitamente ai nostri lettori, sarà dato in edicola insieme al Centro e alla Gazzetta dello Sport al prezzo di 1,40 euro, soltanto 1,40 euro a tre giornali, sabato 24 dicembre, sperando, lo scriviamo anche nel nostro insert, nel nostro magazine, che arrivi la neve. La stiamo aspettando tutti, la stanno aspettando gli operatori turistici, e soprattutto cerchiamo di fare in modo che questa industria della neve possa portare un beneficio economico anche alla nostra Regione.